Cari amici di 8w.it, eccoci ad una nuova recensione per la linea Robots in Disguise e qui abbiamo Drift è un incrocio fra una Bugatti e qualche altro veicolo giusto per ricordare quello dell'era dell'estinzione solo che qui è arancione invece che blu comunque una macchina sportiva che si miglia tanto a Bugatti, Vyron, Gran Vitesse, non mi ricordo più anche qui completa mancanza di decorazioni c'è giusto il minimo sindacale di colorazione infatti qui abbiamo le Reprolables per Drift che provvederò a installare una volta finita la recensione facciamo confronto di dimensioni con Cap e penso che forse sia un po' più grande il Drift è più basso ma più largo ed è anche più lungo quindi credo che come stazza vinca lui anche se a pelo passiamo subito alla trasformazione allora per prima cosa tiriamo via le spade si agganciano su questi perni qua uno e una due attraverso questi fori sulle else poi apriamo le fiancate le sganciamo da questo perno e le portiamo in basso su questa cerniera prendiamo il muso della macchina e lo ribaltiamo del tutto prendiamo il tettuccio lo sganciamo e lo tiriamo indietro abbiamo qui due dentelli ecco ne qua uno e l'altro sull'altra struttura e vanno infilarsi in queste due scanalature un po' di pressione in modo che stiano in posizione prendiamo i piedi li portiamo in basso e separiamo le gambe a questo punto ruotiamo il torace di 180 gradi prendiamo quello che rimane il cofano e lo ruotiamo su questo perno allunghiamo le braccia su una doppia cerniera e le istruzioni dicono di lasciarlo così io sinceramente riporto un po' in alto in modo da dare un po' più di proporzione alle braccia cioè se serio questo è il mio metodo questo è quello crevo ufficiale questo è un gorilla questo è un umanoide le spade possono essere impugnate ovviamente oppure abbiamo qui due fori che permettono la posizione in sede delle spade e ho notato che mettendola quella più bassa quella più piccola che credo si chiami Shoto questa è una katana questo è uno Shoto mi sembra cioè le scanature in basso sono più stabili se le invertiamo questa scivola e questa fa fatica ad entrare mentre messe così vanno fino in fondo senza alcun problema ora casualmente Drift ha delle spade e somiglia vagamente a un samurai come Drift o come Drift un altro paio di recolor di Drift e posso avere di 5 samurai Autobot Shido e Kimo ce li ho ho anche Ariel Ariel me ne mancano uno verde uno rosso e uno azzurro chiaro sto volando sulle cazzate facciamo un piccolo zoom della testa scolpita molto bene però i baffi sono grigi dovrò e anche il pezzetto provare con uno sharp o qualcosa del genere e collegarli articolazioni testa ruota fin qua e fin qua per via della forma del casco o del cabuto se vogliamo stare in tema la spalla ruota 360 gradi su un ball joint che è qua dentro poi abbiamo un po' di gioco anche ah no si abbiamo la rotazione esterna su questo perno ruota 360 gradi sopra il gomito fa i 90 gradi in avanti ah ecco una cosa da notare le ruote sono di plastica trasparente color fumé e la cosa mi dispiace un po' che le repolebbero sono l'adesivo ma pazienza il polso ruota di 90 gradi in dentro per qualche motivo ruota tanto così e tanto così sul bacino sul torace non è che non si solleve un po' questo allora fai 180 gradi per la trasformazione ma se no col torace in basso qui tocca e qui tocca i gonnellini sono su un perno a frizione ah no è un ratchet possono essere aperti in modo da liberare l'articolazione delle anche che fanno 90 gradi avanti 90 gradi indietro 90 gradi in fuori e poi il gonnellino lo si adatta ruota 360 gradi sopra il ginocchio fai 90 gradi al ginocchio più o meno non ha 90 gradi tondi e abbiamo un po' di gioco qui col piede abbiamo abbastanza articolazione sul braccio da permettergli pose abbastanza plastiche qui sta proprio andando a estrarre la spada ed è una cosa che ha in comune con i suoi compagni questo riusciva a prendersi le spade sulla schiena credo che questo sia uno dei due transformer che ho che possono tenere una spada con le due mani l'altro è l'optimus takar age of extinction e bene ok e adesso il motivo per cui uno butta i suoi soldi in un deployer ecco qui la squadra drift è il completo e sono anche più o meno circa in scala non riescono a fare un mass shifting decente per essere agganciati qua e tra l'altro non c'è neanche l'aggancio però in forma robotica tutti e tre assieme sono quasi a posto ecco una cosa differenzia questo drift dal suo modello in cg è che non ha le ruote sulla schiena ma non sono sicuro di come sarebbe stato possibile metterle andiamo a fare confronto di scala qui abbiamo bumblebee e sono alti più o meno uguale qui abbiamo il vacon che è un filino più alto bene cosa posso dire di drift è un modello molto buono mi piace un sacco ci sono un paio di cose che non gradisco proprio tanto come le differenze di colorazione e la mancanza di pitture con il fatto che questi pezzi qua non si aggancino mai come dio comando però come come modello non è affatto male chiaro sia uno dei migliori della linea ha poco ha o nessun kibble per tutto il kibble che ha è questo questo qui come per bumblebee va a fare i talloni solo che qui funziona la cosa perché va a toccare terra qui dovevo limare un po' i perni come ho visto nera molto cara dell'episodio finale e ha una buona posabilità sinceramente è un modello che consiglio di comprare è anche quello più verniciato se vogliamo essere pignoli ha due colori tre se contiamo il grigio delle anche quattro anche il rosso della chiesta però è il più colorato di tutti di suo bene non so che altro dire quindi sì un modello consigliato è un bel veicolo un buon robot la trasformazione è interessante e il risultato è più che soddisfacente bene direi che posso anche smettere qui e ci vediamo alla prossima recensione ciao 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 ciao